Ragazzi, una novità meravigliosa del mondo Rekken, Metafix 08, è una brillantina liquida ma la particolarità al confronto delle altre brillantine è che è argento e oro. Quindi questa brillantina la useremo su dei look particolari, su comunque delle acconciature raffinate, trecce, code di cavallo, semplicemente ci regalano delle choc o comunque anche solo delle piccole sfumature in oro e in argento. Ovviamente più vogliamo l'effetto esaltato più applicheremo la quantità di prodotto. Quindi vogliamo una sfumatura molto leggera applichiamo una piccola quantità di prodotto con le mani, la lavoriamo e comunque la lasciamo asciugare. Se vogliamo un effetto argento o oro più esaltato, più evidente, asciughiamo la prima applicazione e ridiamo una seconda applicazione sopra e torniamo ad asciugare. Quindi avremo un effetto metallico molto più intenso, semplicemente per dare comunque luce ad essere per una volta, per una notte un po' più particolare. Quindi ricordatevi questa brillantina liquida meravigliosa. Grazie ragazze!